Sono Mario Porfido, ambasciatore UNICEF, e voglio chiedervi di essere vicini al Nepal colpito da un terremoto spaventoso. Io sto con l'UNICEF e con il programma mondiale alimentare per aiutare i bambini e le famiglie coinvolte. Uniscite a noi. Invia un SMS o chiama al 45596. Fa l'ora. 45596. Grazie.